Le epigrafi rappresentano un'importante testimonianza della storia di una città e Piranone è particolarmente ricca. Dopo quattro anni di ricerche, Daniela Pagliaga-Jankovic ha raccolto in una pubblicazione bilingue 88 epigrafi di vario tipo presenti in città, celebrative, votive, edili, commemorative, monitorie e funebri che si trovano su supporti diversi come pietra, bronzo, tela e parete. Sono importanti perché secondo me segnano 700 anni di storia della città. Se li conosciamo e li capiamo, sappiamo apprezzarli, sappiamo conservarli, tutelarli e sentirci orgogliosi di appartenere a una città che ha tante iscrizioni. Invito qualsiasi altra città a mettersi a confronto con Pirano. 1.100 edifici, praticamente ogni decimo edificio ha un'iscrizione. Pirano è una città che merita di essere vissuta e conosciuta. Il volume Memorie di Pietra mette in luce un'importante pagina della storia di Pirano che alle volte può passare inosservata. Una ricerca di questo tipo fatta da Daniela Pagliaga-Jankovic che ormai è la sua quinta pubblicazione, ci aiuta a mettere per iscritto determinate cose che appunto a volte possono rimare nascoste o alle quali per qualche volta non notiamo, alle quali non facciamo caso. L'importante è fare ricerca, scrivere e poter avere memoria di tutto quello che è il patrimonio di Pirano. Le epigrafi cittadine denotano anche la varietà linguistica presente sul territorio. Abbiamo il 70% di epigrafi che sono in latino naturalmente per la sua lunga storia e il latino era la lingua della comunicazione scritta, quindi anche queste sono scritte e è italiano, è solo in italiano. L'ultima è del 1948, solo in italiano. Anche questo è significativo come data. Poi abbiamo numerose che sono bilingui, sloveno, italiano, italiano, sloveno. Abbiamo un paio che sono soltanto in sloveno, abbiamo una in croato e abbiamo due trilingui, sloveno, italiano ed inglese. Nel corso della serata il folto pubblico di Casa Tartini ha avuto modo di ascoltare un breve excursus bilingue sul lavoro svolto dall'autrice e sulle epigrafi e successivamente alcune sono state visionate dal vivo nei pressi di Piazza Tartini con Daniela Paliaga-Jankovic come guida. In futuro saranno organizzati ulteriori itinerari per vedere in loco anche le altre epigrafi di Pirano.